Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Calabria News 24. Ascoltiamo insieme i principali titoli del nostro telegiornale. Vigili del fuoco in protesta chiedono l'adeguamento degli stipendi. Catanzaro sigle sindacali in prefettura per il rilancio del settore edile. Calabria ha presentato il calendario 2020 dell'arma dei carabinieri. Unical ha tracciato il bilancio del progetto de facto. E lo avete sentito, le organizzazioni sindacali hanno organizzato anche in Calabria un sit-in di protesta davanti, le prefetture a sostegno dei vigili del fuoco. Non è possibile, dicono, continuare con questi stipendi. Abbiamo bisogno di una retribuzione adeguata ai rischi che corriamo. Chiedono il rinnovo del contratto di lavoro e l'equiperazione rispetto alle altre forze dell'ordine. Hanno protestato a Roma i vigili del fuoco, ma anche in tutte le province, anche a Cosenza. Una manifestazione, quella davanti alla prefettura, anche sobria con una sola bandiera per ogni organizzazione sindacale aderente, in segno di rispetto e in memoria dei colleghi caduti in servizio ad Alessandria. Oggi siamo in supporto qua davanti alla prefettura alla manifestazione che sta avvenendo contestualmente a Roma per chiedere sostanzialmente il rinnovo del contratto adatto a noi con più soldi. Chiediamo anche l'equiparazione alle altre forze dell'ordine per garantire una specificità del corpo. Chiediamo un aumento di organico del corpo e con forza questi punti cerchiamo oggi con la nostra presenza a Roma e con i sit-in davanti a tutte le prefetture di arrivare a questo obiettivo. Se non ci saranno delle risposte, in quattro giornate di sciopera a partire dal giorno 21, è chiaro, voglio dire, qui siamo praticamente per cercare di dare una risposta a tutte le donne e gli uomini del corpo nazionale vigili del fuoco, al fine di avere finalmente risposte a quelle che sono le legittime aspettative di questo corpo che sta pagando anche con la vita le mancanze disposte dalla politica senza colore e diciamo basta a quelle che sono state le promesse finora non mantenute. E restiamo in tema e vediamo la situazione registratasi oggi a Crotone. Questa giornata di sit-in davanti alle prefetture riguarda solo Crotone o anche altre realtà? No, oggi le organizzazioni sindacali GGL, CISW e CONFESAL hanno organizzato questa manifestazione davanti alle prefetture di tutta Italia. In questo momento le nostre segreterie nazionali sono davanti a Mocetitorio per manifestare la problematica dei vigili del fuoco alla politica. Vogliamo ricordare quali sono le vostre richieste ancora in attesa? C'è stato il governo precedente dove aveva stanziato un disegno di legge dove c'erano 216 milioni di euro per l'equiparazione stipendiale e previdenziale alle altre forze dell'ordine. Una ventina di giorni fa il Presidente Conte ha invitato i segretari generali dicendogli che questi soldi non c'erano e per i vigili del fuoco c'erano solo 25 milioni di euro. Quindi per noi è una cifra molto irrisoria. I vigili del fuoco se dovesse subire un infortunio sul lavoro non abbiamo un'assistenza né legale né sanitaria. Quindi il vigili del fuoco se si infortuni sul lavoro deve pagarsi di tasca propria la salute. E questo a noi non sta bene. Incontrerete il Vice Prefetto? Incontrerete il Vice Prefetto dove diremo queste problematiche. Una cosa che voglio dire è che devo ringraziare i cittadini che ci stanno vicini, soprattutto per la morte dei nostri colleghi ad Alessandria, dove per noi non sono morti in servizio, ma sono stati uccisi per un attentato e che lo Stato non ha tutelato i nostri colleghi. In ultimo voglio ringraziare i ragazzi della Cluba Sud, degli Utrà, che nell'incontro con l'Ascoli hanno onorato i nostri colleghi fratelli che sono morti in servizio. Perché sei entrato nei vigili del fuoco? È quasi stata come una vocazione, perché comunque uno poteva scegliere tutte le altre forze di polizia, però è il corpo che mi ha fatto sempre più voglia di entrare perché aiuta di più il cittadino, sta a contatto molto con il cittadino. Noi, visto che facciamo soccorso pubblico, soccorso tecnico, siamo l'unico corpo dello Stato che facciamo questo tipo di soccorso, noi veniamo retribuiti molto meno alle altre forze di polizia e questo non lo vedo giusto. Poi volevo dire anche un'altra cosa, che molte volte non dico che si va con la paura sugli interventi, però tutti quanti abbiamo famiglia, però si fa questo perché, le ripeto, è come una vocazione che noi abbiamo. Infatti c'è un vostro motto che il vigile del fuoco non ha paura. La paura non ne ha. Come si dice, dove la gente scappa noi andiamo. Però questa paura è dovuta che non abbiamo una copertura assicurativa inail, quindi qualora un vigile del fuoco si facesse male andrebbe a sostenere tutte le spese di propria tasca. Questa non è una cosa possibile, anche perché il nostro stipendio è quasi misero. Non solo per il corpo dei vigili del fuoco, i sindacati scendono in 100 piazze d'Italia anche per difendere il settore delle costruzioni, motore trainante così definito dell'intera economia del paese. Anche a Catanzaro, CGL e CISL e UIL sono state ricevute in prefettura chiedendo azioni concrete per il rilancio del settore edile. Il settore costruzione è in crisi ed a Catanzaro si protesta davanti alla prefettura per sensibilizzare il governo regionale e nazionale. Sono tanti gli imprenditori edili che vivono un momento difficile e gli sindacati chiedono azioni concrete per il rilancio del settore. Noi siamo qui a Catanzaro per dire al governo nazionale, al governo regionale e anche alle istituzioni locali che c'è un problema del rilancio del settore delle costruzioni che è in piena emergenza. È in piena emergenza con tanti disoccupati lavoratori edili che non riescono più a rimettersi nel mondo del lavoro. E noi entro mezzogiorno avremo l'incontro con il prefetto dove porteremo alcuni punti della nostra martoriata Calabria, cioè rilanciare le infrastrutture, rimettere un polto tutto quello che riguarda il dissesto idrogeologico, guardare un attimo al dumping contrattuale e al lavoro nero che è in Calabria di Laga. Tutte ragioni queste che fanno sì che la Calabria è ai vertici più bassi nell'ultimo decennio. Se voi pensate che solo negli ultimi dieci anni si sono persi in Calabria oltre 24.000 posti di lavoro e sono state chiuse 2.700 imprese, un dato che per noi è veramente, come dire, drammatico. È stato presentato nei comandi provinciali calabresi il calendario storico 2020 dell'Arma dei Carabinieri, un vero e proprio calendario narrativo raccontato da Margaret Mazzantini, nota scrittrice che ne ha curato i testi ed illustrato dal pittore Mimmo Paladino. Anche a Cosenza è stato presentato il calendario dell'Arma dei Carabinieri per il 2020, un'iniziativa che si ripete da 87 anni e che raccoglie sempre più consensi, tanto da divenire il calendario oggetto per veri e propri collezionisti. Per il 2020 i testi del calendario realizzati in otto lingue e di cui vengono stampate un milione di copie sono dalla scrittrice Margaret Mazzantini e le immagini del pittore Mimmo Paladino. Motivo dominante è la premurosa tensione che ogni componente dell'Arma pone nei confronti della vulnerabilità. È un forte simbolo di vicinanza agli italiani e quest'anno il calendario è ancora più significativo perché ha una forma quasi narrativa mese per mese con dei brani mirabilmente scritti dalla nota scrittrice Mazzantini e accompagnati da delle tavole di un artista contemporaneo Mimmo Paladino si riproducono dei momenti di quotidiano eroismo da parte dei carabinieri, atti compiuti in servizio che normalmente non passano all'onore delle cronache ma che sostanzialmente sottolineano in maniera forte il legame tra i carabinieri e gli italiani in una serie ampia di eventi che non è soltanto l'attività repressiva di contrasto quindi diciamo tutte quelle forme di criminalità predatoria per esempio che tanto suscitano l'arme sociale ma anche in momenti diversissimi quale l'anziano che solo in casa chiede soltanto un momento di conforto un carabinieri con cui scambiare la parola o ancora un piccolo che viene praticamente trovato all'interno del supermercato dove ha rubato soltanto delle matite e dei pennarelli ma non poteva fare diversamente perché non poteva frequentare la scuola e lì carabinieri che in un atto di grande umanità si prestano a non solo comprare tutto ciò che è necessario ma a confortarli in questo momento di profondo dolore questo è soltanto diciamo una piccola sequenza di tanti momenti di vita dei nostri reparti che è riportato in questo oggetto che ormai è un oggetto di culto Realizzato anche un calendario da tavolo con immagini dedicate alle piazze italiane fra queste anche la città di Cosenza All'Unical è stato presentato il report del progetto De Facto iniziativa di progetto e sviluppo cofinanziata dalla Regione Calabria ed organizzata da una società di consulenza informatica in collaborazione con il DIMEG dell'Università della Calabria All'Università della Calabria la ERZUM SRL, società di consulenza informatica con il DIMEG si è presentato i risultati del progetto De Facto un progetto di ricerca e sviluppo cofinanziato dalla Regione Calabria nell'ambito del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 Il processo di trasformazione digitale anche in Calabria come ovunque è un processo in divenire e di certo le tecnologie che tratta il progetto De Facto come Agile e DevOps sono tecnologie nuove soprattutto nell'ambito della nostra Regione dove non se ne parla troppo anche se ci sono tanti player interessati a questi contesti tra questi player ci siamo noi e abbiamo deciso tramite De Facto di offrire una piattaforma una software factory che sia facile da utilizzare che colmi il divario tecnologico ma anche riesca a riconciliare sotto un approccio olistico tutte le tecnologie del portofoglio Atlassian e non per far sì che si riesca davvero a produrre valore con efficacia e senza i diversi impedimenti dello sviluppo tradizionale Devo dire che di molte collaborazioni che ho avuto questa è stata una delle più profigue e anche delle più piacevoli perché abbiamo avuto un interlocutore competente e un interlocutore anche molto esigente e ci ha chiesto delle cose importanti per ottimizzare la realizzazione di strumenti software di strumenti per l'ingegneria del software che devono confrontarsi con la realtà corrente che è la realtà del cloud la realtà di un processo di acquisizione di risorse molto difficile e quindi problemi decisionali molto complessi che richiedevano una ottimizzazione siamo arrivati abbiamo dato il nostro contributo oggi abbiamo avuto la possibilità di vedere che questo contributo è stato ben inserito all'interno di un progetto globale che Erzum ha portato avanti al quale noi ovviamente facciamo i migliori auguri per il successo che potrà avere anche sul mercato questa era l'ultima notizia io prima di salutarvi vi ricordo come sempre di consultare il nostro sito www.calabrianews24.com grazie per averci seguito e a tutti voi una buona serata